Fit check del giorno con palomita, che amore mio, che amore mio, che amore mio, lei si fa, si mette sempre in questa posizione per prendersi tutte le coccole sulla pansita, vero? 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 Questa è il melucca. Dai, è iniziato a quattro minuti. Dai, che sono stanco, la coppia. Per il jet lag, per il jet lag. Normalmente sono più forte. E il sole? E il sole? E il sole? E il sole? Chiara Ferragni e il suo ufficio quotidiano sono diventati un appuntamento fisso per i suoi milioni di follower sui social media. Tuttavia, negli ultimi giorni, c'è stata una novità. La presenza costante della sua adorabile cagnolona Paloma nei video. Mentre Chiara si allena e mostra la sua routine di fitness, Paloma è sempre al suo fianco, aggiungendo un tocco di dolcezza alle sessioni. Nel frattempo, il marito di Chiara, Fedez, è volato a Miami per impegni di lavoro. Nonostante il cambio di fuso orario, e il fitto programma di allenamenti in piscina e box, Fedez sembra affaticato. La distanza fisica da Chiara sembra pesare su entrambi, ma sanno che è solo temporanea. La coppia è attualmente separata per motivi professionali. Ma presto saranno riuniti. Fedez non vede l'ora di tornare dalla sua amata famiglia, riabbracciare i suoi piccoli leone e Vittoria, e ricreare quel calore e quell'intimità che solo la casa può offrire. Nonostante i loro impegni frenetici, Chiara e Fedez dimostrano costantemente la forza del loro legame e l'amore per la loro famiglia. La distanza può essere difficile. Ma sanno, che è solo una questione di tempo prima che si ritrovino tutti insieme. Pronti per creare nuovi ricordi, e condividere ancora più momenti felici.